buongiorno a tutti cinque secondi e cominciamo il nostro webinar il tempo di organizzare un attimo la piattaforma perché lapidari deve imparare un po a usarla nel frattempo un caro saluto a tutti voi allora cominciamo anche a condividere i nostri schermi eccoci qua buongiorno a tutti share screen andiamo sulla piattaforma operativa bene penso che vediate tutti la piattaforma che stiamo usando nel frattempo io mi comincio ad assemblare le varie finestre della chat è la prima volta che sto usando questa piattaforma youtube da un lato e dall'altro lato eccoci qua eccoci qua ci siamo non ferma payrolls oggi appuntamento molto importante molto molto importante che sicuramente trova i mercati in un certo senso in una situazione un po particolare perché perché sotto certi aspetti siamo arrivati a questo appuntamento con un rialzo dei mercati molto forte a mio modo di vedere un rialzo dei mercati eccessivo che però in una certa qual misura non possiamo negare che sia anche un rialzo da non contrastare perché da non contrastare perché si sono fatte strada sui mercati delle impostazioni di pensiero più che di prezzo e queste importazioni di pensiero più che di prezzo sono le seguenti ovvero da un lato quello che è venuto fuori è che forse il coronavirus poteva essere maggiormente maggiormente gestibile ovvero sì c'è un problema ma insomma in fondo in fondo in fondo in fondo da un lato dal punto di vista tecnico non va chiaramente sottovalutato il fatto che il mercato la faccenda del coronavirus l'aveva presa malissimo perché se andiamo a vedere quello che è successo nelle scorse sedute che sono poi quelle della passata settimana noi ci siamo trovati a un dax che nell'inizio della terza decade di gennaio il 22 aveva passato il record storico sia pur di pochissimo di 13 mila 600 e qualche cosa poi a un certo punto è che cosa fa il mercato si si va a settare con una correzione con molte shooting star perché se andiamo a osservare per esempio il grafico daily del dax che andremo adesso ad ingrandire sulla piattaforma e che vogliamo rendere più visibile quello che si può notare è queste candele qua che hanno cominciato a essere preoccupanti e queste candele in realtà hanno elaborato un processo che a mio modo di vedere è di divergenza ribassista lo vediamo dall'indicatore di sentiment ma lo vediamo anche dal fatto che nelle sedute precedenti spariscono le intensità dei volumi di acquisto in questo senso introduco anche l'argomento di questi webinar ovvero il fatto che noi andremo a dettagliare singoli interventi sui temi economici più importanti questi webinar che stiamo organizzando con avatrade e spiegherò la presenza di avatrade oggi ci aiutano a interpretare l'andamento dei principali appuntamenti macroeconomici sui principali indici di settore e valutari e delle materie prime alla luce di come possiamo interpretare i segnali del grafico con gli indicatori sentiment e dashboard e prossimamente ne uscirà un terzo perché perché ho voluto che questi webinar fossero e questa è un'iniziativa che non è isolata ma parte poi per tutto l'anno fossero anche in un certo senso qualche cosa di non episodico ma di continuativo ovvero in questi webinar che saranno uno o due anche alla settimana andremo a vedere come leggere i mercati alla luce di questi software perché perché questi software sia per i clienti che li hanno acquistati che per coloro che li stanno provando stanno cominciando a essere io di questo ne sono molto contento il mio impegno in tal senso è stato massimo molto diffusi al tempo stesso però intanto con l'altro schermo guardo il grafico per potervi parlare meglio al tempo stesso però danno una serie di informazioni che non è isolata che non è secondaria e pertanto scusate questa serie di informazioni richiede a mio modo di vedere ma soprattutto proprio anche in termini di atteggiamento didattico di essere accompagnata da una didattica molto forte da spiegazioni molto forti allora che cosa abbiamo pensato di fare con daniele ponzinibbi che è il responsabile per l'italia di avatrade con i suoi principali collaboratori fra cui saluto anche simone spinelli abbiamo pensato di operare attraverso la loro piattaforma e poi nella seconda parte quando uscirà il dato spiegherò anche come si sostanzia questa collaborazione che io ho deciso di attivare con questo importante prestigioso broker abbiamo deciso di caricare gli indicatori sulla piattaforma una piattaforma real non è un conto demo dove al di là dell'operatività personale che poi andrò anche a dettagliare e a rendicontare meglio nelle prossime sedute un conto che è stato aperto da poco una settimana dieci giorni più di operatività andremo anche a fare un'altra cosa molto molto importante ovvero andremo a vedere come gli indicatori possono a volte esserci utili per anticipare l'andamento dei mercati e come gli indicatori stessi ci possono essere utili non tanto e non solo come dicevo prima nell'anticipazione del segnale operativo del mercato ma anche nella lettura e nell'interpretazione dello stesso e questo è estremamente importante molto molto importante chiudo intanto la posta e così vediamo il tutto cosa ci diceva appunto il dax il dax ci diceva che l'ultima parte della salita del mercato era una salita in divergenza questa è una fase di distribuzione che cos'è la distribuzione quando mercato va a fare dei massimi crescenti e ci sono 1 2 3 e però questi massimi crescenti non sono accompagnati da massimi crescenti degli indicatori a differenza della fase precedente molto bella molto impulsiva questa prima struttura rialzista questo ritracciamento sulla media 200 periodi io utilizzo soltanto una media mobile e questo è un primo impulso perché ho voluto ripercorrere la grafica di questa sequenza 123 perché dove finisce la prima parte di questa onda rialzista io vi vado a tracciare adesso facciamo anche più in in grosso un po' più dettagliata eccola così il termine di questa fase impulsiva perché qui a 13.052 circa c'è il vero e proprio supporto da parte del mercato e che cosa ha fatto il mercato ha rimbalzato quindi questo livello lo vedevano tutti l'ha rotto poi l'ha recuperato con questo bellissimo hammer notare anche qui la figura di doppio minimo vi ha lavorato tutte le volte con degli hammer qui ci sono delle figure di rifiuto del prezzo di scendere sotto 13.051 questo è estremamente importante come struttura di prezzo tolte le shadow a livello di corpi perché le shadow sono importanti ma ancora di più i corpi a livello di corpi ovvero di chiusure siamo in una zona di doppio massimo ma la creazione di una trend line di proiezione dei massimi che io vado poi a doppiare perché mi è servita per capire i movimenti qua sotto mi dice anche che questo massimo è un po' sforzato il sentiment lo dà ancora robusto così come molto robusta è stata la pressione rialzista che ha colto in controbalzo in grossa difficoltà coloro che si erano invece messi short qua e che pensavano a una discesa molto ampia vedete che qui c'è una pressione molto forte a ribasso lo stesso questa candela pressione molto forte a ribasso nella seduta successiva vi deve non vi deve passare in osservato un particolare che l'indicatore di sentiment vi può evidenziare e ve lo devo ingrandire per farvelo capire meglio a noi nell'analisi del grafico che cosa interessa? vedere i movimenti di salita e di discesa e fin qui siamo tutti d'accordo ma ci interessa anche capire se questi movimenti di salita e di discesa sono accompagnati non solo da un'evidenza grafica di candele molto forte a rialzo molto forte a ribasso o viceversa ma devono essere anche accompagnati da una pressione in acquisto in vendita altrettanto evidente come la grandezza delle candele e comunque come i movimenti del grafico stessi perché noterete qui c'è una candela ribassista molto robusta la pressione è brutale qui vedete questa piccola candelina inesistente vedete come questa piccola candelina che non torna neanche a metà della candela ribassista azzera completamente la pressione a ribasso vedete che qui non c'è più, quasi nulla c'è proprio un piccolo spunzoncino di pressione a ribasso di che cosa? di intensità di vendite a riprova che qui non soltanto il mercato si è fermato ma in occasione anche di un sentiment che non si muove dalla linea importante dello zero perché li va ben sopra abbiamo anche di nuovo un viatico importantissimo e vedete che qua c'è stato un combattimento da dove lo possiamo vedere meglio questo combattimento? dal daily per avere lo scenario ma dall'H1 per avere anche maggiore contezza di ciò che è veramente successo andiamo quindi a prendere il grafico in H1 dove si vede che quella seduta successiva che aveva dato luogo un po' a una calma quella candelina piccola daily è tutta questa roba qua è una piccola flag di ricontinuazione dal daily non la vedi dalla flag ora è 14 e 14 tra 16 minuti esce il dato la si vede e si vede un'altra cosa importante dall'indicatore che la mano secondaria ovvero i trader retail qua dopo che avevano venduto pesantemente l'ultima seduta forte prima di questo l'app con questo piccolo rialzo cosa fanno? cedono il controllo del mercato su questa fase di riaccumulazione alla mano primaria cioè la mano primaria ricomincia a introdurre dei volumi di acquisto questo è il sentiment normalizzato in scala più 100 meno 100 con l'inclusione dell'istogramma delle pressioni in acquisto questo è il sentiment non normalizzato le formule sono le medesime più adatto a grafici di lungo periodo mentre questo è più adatto all'intraday chiaramente poi le istanze degli indicatori non cambiano cioè nel senso la loro formulazione è la stessa i segnali che danno sono i medesimi quello che però è importantissimo poter notare che cos'è? è che nell'ultima seduta vendevano tutti vendevano i piccoli ma vendevano anche i grossi quando si arriva a vendere eccoci qua comincia a familiarizzare anche con i messaggi di chat quando si arriva a vendere su supporti molto importanti entrambi gli schieramenti cioè vendono sia i piccoli che i grossi ma si arriva su un supporto importante di solito di solito hanno ragione i grossi perché è lì che allora a quel punto quello che si può notare esce fuori e quello che esce fuori intanto stiamo facendo entrare tutti i partecipanti e quello che esce fuori è proprio che cosa che a questo punto il mercato viene recuperato dai big e questa è la riprova che dal punto di vista dello short qualche operatore retail ha shortato troppo tardi dov'è che allora a quel punto il mercato ha girato ha girato ha girato alla rottura di questa linea di resistenza questa linea di resistenza è stata poi quella che ha girato completamente il mercato a rialzo alla rottura di questa linea qual è la distanza che il mercato ha poi percorso andiamo a prendere il minimo e lo moltiplichiamo una volta qui realizziamo un primo livello di attenzione e questo è molto importante qua lo abbiamo passato e quindi dobbiamo andare a creare un secondo livello per oggi un'eventuale forza rialzista dei mercati va a lavorare su questa zona qua che vedete poco al di sopra della metà dell'obiettivo quindi un primo livello di resistenza oggi per l'indice tedesco potrà essere questo un secondo livello sarà 13700 circa che è al di sopra di questi mercati qua di questi mercati su questa linea di resistenza chiaramente non possiamo non andare a prendere anche ciò che ci indica visto che ce lo da subito in chiaro l'andamento di sp500 su sp500 che cosa è successa è successa la stessa cosa intanto saluto chi mi saluta in chat mi perdonerete se non riesco a essere dal punto di vista operativo con l'uso della piattaforma perfetto in ogni caso sappiate che vedremo poi tutto in registrata sul video il time frame che stiamo analizzando sulle sp500 è orario il time frame che abbiamo analizzato prima sul dax era daily e orario sull'sp500 il mio suggerimento è di prendere questa trend line che abbiamo tirato qua che è la copia di questa quindi abbiamo preso questi due minimi e abbiamo ritirato poi questa a mio modo di vedere questa trend line è estremamente importante e configura un passaggio notevole chiedo scusa ai colleghi che per sbaglio non ho fatto entrare nel webinar subito oggi se necessario lo allungheremo anche un po' di più rispetto al tempo previsto in modo da far sì che tutti possano anche fare le domande che magari avrebbero potuto fare prima e confermo a Daniele Ponzinibbi di Ava che ci sta ascoltando che siamo partiti in ritardo ma io sono così devo familiarizzare un po' con le piattaforme elettroniche poi quando quando mi mi ci trovo sicuramente nel prossimo webinar ne abbiamo quattro da fare soltanto per questo mese di febbraio questo è ciò che io vedo su SP500 cosa voglio andare a creare con SP500 una roba di questo genere perché qui ho un segnale d'allarme che non mi piace molto se vedo il sentiment sull'orario praticamente di questa prima parte di febbraio grande Giovanni dice Daniele ma ce la faremo ce la faremo sicuramente con la passione con l'impegno si può far tutto vedete che la linea blu del sentiment è tagliata a ribasso è un grafico orario ma dove c'è il taglio a ribasso della trendline dei big qui e dove c'è la resistenza 3345 vi consiglio quando fate livelli di resistenza sul trendline di posizionare dove la trendline rompe il livello in questo caso di un indicatore vi consiglio di posizionarci proprio una linea orizzontale che vi dica dove è stato fatto il taglio eccolo qua e quindi di andare sul livello di prezzo che vi dà il taglio stesso se ci sono delle altre domande fatele perché adesso piano 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 ce lo sto prendendo vedete anche qua che qui c'è stata una pressione ribassista piuttosto evidente va però detto che il segnale sull'SP500 lo devo un po' interpretare perché perché da un lato comunque questo taglio potrebbe essere anche un solo allentamento in quanto in quanto sì qualche vendita c'è ma non è che ci sono grandi acquisti da parte della mano secondaria e quindi potremmo avere uno scarico dell'indicatore che sarebbe del tutto comprensibile perché perché dopo tanti giorni di rialzo tanti comunque tre o quattro abbiamo avuto quattro sedute consecutive ma da 3200 siamo andati a 3350 a rotondo per comodità di e intanto stanno arrivando tutti e io piano piano poi li faccio entrare quello che dobbiamo notare è che proprio 3200 3.350 sono 150 punti 150 diviso 3200 per cento è il 4,6 per cento in pochissime sedute 4 è come dire l'1 per cento al giorno e qualche cosa di più è come dire 4,6 diviso 4 mensilizzato fate sempre questo ragionamento per capire gli eccessi prendete la performance la dividete per il numero dei giorni in cui è stata conseguita e l'1,15 la moltiplicate per 20 è come dire c'è il coronavirus e io ho fatto una performance che su base mensile è il 23% già da quello potete rendervi conto di quanto questo sia stato un rialzo eccessivo che peraltro sulle materie prime e prima del dato voglio parlare dell'oro è stato sì recepito ma comunque anche l'oro zitto zitto qualche rimbalzino se l'è fatto e si è posizionato in una modalità neutra dove nel riposizionarsi in modalità neutra però al di là impulso quasi doppio minimo questa è molto bella come figura tecnica perché è una figura di si vedono molto bene sul MACD è una figura interessante poi qui riprende a partire poi qui chiaramente l'oro sente la media mobile a 200 periodi sente la metà del fibonacci e quindi ci occorre un po' di resistenza c'è perché qua c'era un minimo molto importante di swing rotto pull beccato quindi qui chiaramente ci sono delle posizioni sull'oro di sofferenza da parte di alcuni operatori e sono queste questo è stato il recupero che l'oro ha fatto ma l'oro zitto zitto non ha ancora dato segni di squilibrio anche se questa configurazione di rottura triangolare potrebbe essere una configurazione da interpretare tanto cominciamo a settarci per i dati macro che tra un po' arrivano anche loro io vi consiglio di osservarli per esempio sulla pagina di myfxbook dove li guardo però ognuno poi può trovare i dati che preferisce siete molti e io vi ringrazio anche della vostra partecipazione per oggi quello che potete notare molto 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 chiaramente è che comunque su oro c'è una struttura che dobbiamo mettere così vedete quando i triangoli a loro volta sono espressione di una figura quasi di matrioska sono flag quindi se da un lato la flag potrebbe sembrare di continuazione vista in questo modo dall'altro lato abbiamo delle evidenze che questo triangolo se fosse rotto qua dove prendendo questa linea e duplicandola da qua sotto trovate il supporto ecco se l'oro vi rompe 1563 chiusura oraria però serve una chiusura oraria dovete stare estremamente attenti perché questa potrebbe essere una chiusura non bella io nel frattempo mi districo sulla chat eccetera eccetera come stanno arrivando i principali indici di mercato e vorrò andare una volta tanto a togliermi il DAX per mettere il Dow Jones cioè la dashboard oggi sta macchina stranissima cosa ci dice cancelliamo intanto un po' di oggetti grafici perché abbiamo disegnato molte trendline e nel frattempo ringrazio chi mi sta salutando e facendo i complimenti dal punto di vista informatico possiamo migliorare ma insomma riusciamo a fare questo io ho voluto mettere il Dow Jones perché il Dow Jones è molto importante e il Dow Jones guardate che non se la sta passando malissimo non è brutta questa configurazione grafica aspetto per esempio a quella di DAX e di SP secondo me è più simpatica c'è un po' di attenuazione ma niente di granché allora manca praticamente pochissimo al dato 48 secondi il DAX arriva con una posizione ribassista degli istituzionali che sono short da 13.545 Nasdaq short da 4.43 29.264 29.289 quello che ha più forza è il Dow Jones vedete infatti DAX è debole meno 0.33 Dow Jones e Nasdaq sono ancora in positivo euro-dollaro in difficoltà oro un po' in difficoltà fuzzi-mib un po' in difficoltà petrolio in forte difficoltà per quanto riguarda le valute attenzione sullo yen ragazzi dollaro-yen più 0.31 prendiamo quindi Dow Jones apriamola 5 minuti ecco i dati pare che siano lievemente migliori del previsto vediamo la reazione dei mercati e infatti così è il dato è migliore del previsto di solito di solito è il primo dato che esce quello che poi dà il via alla seduta è venerdì il dato non è malvagio questo è un grafico a 5 minuti il mercato si era posizionato sotto qui l'indicazione che ci dà il sentiment è che quando il big arriva dal basso verso l'alto sulla linea dello zero identifica nel momento in cui raggiunge il prezzo questo come un livello di resistenza come utilizzare allora l'indicatore si prende se questa è la linea dello zero poco più questo prezzo facciamolo proprio meglio eccolo qua si prende questo prezzo e si va a vedere dal basso il prezzo da qui arrivavamo supporto livello di zero è come fosse un livello di equilibrio quindi questo è il livello di supporto questo è il livello di equilibrio qual è il livello di resistenza si prende la distanza fra livello di supporto e livello di equilibrio si moltiplica quale può essere poi il livello intermedio metatrader è una figata scusate il termine è spaziale perché perché a metà c'ha sempre quando fai una trendline a metà c'ha sempre proprio il vediamo DAX come ha reagito DAX Mosho sinceramente molto è vero è vero che da un lato il non fan pie rolls è una roba dell'America e non del DAX ma vedete che il DAX ha fatto una reazione tanto infatti che il DAX ha 5 minuti stiamo sempre usando il 5 minuti per tutti non è sulla linea dello zero è giù e la pressione sul DAX quantifica un po' di eccesso queste freccettine sono quando c'è un po' di eccesso ma non significa che questa sia una pressione da prendere a rialzo se ci sono delle domande su particolari strumenti che vogliamo osservare nel loro comportamento sul dato fatemele tenete presente che i dati poi possono avere anche una loro revisione e quindi adesso sono usciti in un certo modo ma può darsi che siano poi anche soggetti ad una seconda lettura se devo osservare sinceramente il DAX non mi sembra che c'è debolezza di euro c'è debolezza di dollaro contro il Canada strano perché le materie prime per il momento io sto guardando il rame oggi il rame sta di nuovo prendendo una legnata il rame è molto legato al cambio dollaro canadese il rame oggi sta a meno 1,12% oro per il momento è sempre su 5,64 5,65 dove eravamo prima qui non è cambiato non è cambiato granché in tutta sincerità vedete che su DAX fa molto riferimento il 50% non perché è probabilmente sempre il livello più importante che poi il 50% non è un livello di Fibonacci viene utilizzato chiaramente quando si creano i ritracciamenti di Fibonacci ma il 50% è la metà fra un movimento importante il suo massimo movimento importante il suo minimo qui c'è secondo me qualche cosa da andare a vedere anche sui mercati diversi salviamo questo formato e lo chiamiamo vi faccio vedere una cosa della dashboard lo chiamiamo dashboard dopodiché chiedo alla dashboard di fare una cosa interessante aprimi un grafico vedete io come si possono utilizzare questi indicatori si utilizzano come vere e proprie togliamo il DAX watch list cioè premendo dove c'è il simbolo dello strumento potete aprire il grafico che vi pare che vi pare nel senso di cui avete settato le principali caratteristiche io mi sono adesso riportato su borsa italiana grafico ignobile da vedere quello del replicante Fuzzimib da parte di AVA con una situazione però che secondo me è bella non è assolutamente brutta nel frattempo nel frattempo sperando di aver premuto bene do la parola a Daniele Ponzinibbi se vuole intervenire sì Giovanni mi sentite? io ti sento perfettamente sono molto contento di aver premuto il tasto giusto così ti presenti eccetera eccetera perdonatemi abbastanza l'essere ignobile oggi ma la prossima settimana saremo perfetti nessun problema la prima volta su Zoom giustamente anch'io ho sempre fatto fatica quindi volevo fare un saluto a tutti esatto presentati te direttamente non far parlare me che sono noioso ci mancherebbe allora oltre a essere diciamo un caro conoscente di Giovanni con quale ci siamo incrociati ormai da quasi vent'anni perché anch'io lavoro sui mercati finanziari ormai dal 99 e negli ultimi dieci anni sto lavorando in Avatrade quindi un broker tra i più conosciuti un lavoro nella sede proprio italiana ed è con piacere poter collaborare con una serie di eventi online e offline con Giovanni siamo partiti proprio sul no fan per all come avete visto da un punto di vista operativo come faccia vedere anche Giovanni più sugli indici io magari mi sono concentrato un po' più sulle valute un no fan per all direi molto migliore rispetto alle aspettative ma ahimè c'è stato un leggero decimale di incremento della disoccupazione siamo sempre ai minimi dal 1970 quindi non è che diciamo il mondo americano adesso si preoccuperà di questo dato però diciamo fondamentalmente non ha scorsi i mercati sì ho messo infatti il grafico dell'euro dollaro per far vedere la debolezza di euro dollaro che è evidente e dall'altro questo minimo tentativo di riprendere qualche cosa anche oro sta riguadagnando qualcosa sì diciamo che l'euro dollaro quello che l'ha tirato giù come del resto anche il DAX è sicuramente stato il dato stamattina sulla produzione industriale in Germania una tragedia anche in Francia meno 6,8 la produzione industriale in Germania mi sembra tanta roba tanta roba qui l'oro sta cercando di trovare una sua strada una sua quadra DAX invece sta certificando che secondo me DAX non è bello io direi anche mi permetto di suggerirvi un consiglio se posso e ovviamente avete anche la possibilità di fare domande in chat sia a me che a Daniele dove poi andremo a introdurre un altro motivo importante di questo primo webinar di oggi state molto attenti sul DAX che è uno strumento come ben conoscete estremamente potente come leva penso che non abbiate bisogno che sia io a dirvi quanto pesa il DAX e quando si arrabbia se confermatemi che vedete confermamelo anche te Daniele che vedi questa slide che sto proiettando la volatilità del DAX in questo momento non si vede Giovanni allora devo probabilmente condividerla diversamente vi do intanto il dato io la volatilità del DAX a un giorno sono più di 209 punti sono livelli di volatilità che normalmente si trovano sui New Share ve la condivido qua sopra faccio vedere una cosa New Share eccolo qua adesso penso che riusciate a vedere questa videata del DAX perfetto ecco questa è una tabella che io tengo anche sul mio sito non ve la sto a spiegare a farvela lunga perché vi ammorberei però vedete io calcolo con degli algoritmi la volatilità che mi aspetto per ogni seduta da un minuto fino a 60 giorni me la calcolo sui principali indici e la calcolo sulle principali 10 measure del Forex da Euro-Dollaro a Sterlina-Dollaro a Dollaro-Yen a USD-CAD a Euro-CHF tutte le principali 10 cosiddette measure il DAX ha una volatilità a un giorno di 209 punti sta lavorando come indice su una sorta di VIX annuale del 25% se si considera gli ultimi 5 giorni del 16 quasi 17% se si considera l'ultimo mese infatti vedete che io indico in questo report molto alta BTP ce l'ha per esempio molto bassa e anche Rame che infatti oggi si sta sfogando di brutto di solito le materie prime hanno sempre una volatilità particolarmente brusca rispetto anche agli indici stessi non ne parliamo sui bond piuttosto bassina infatti oggi Rame perde l'1,10% non è poco ma attenzione alla volatilità del DAX e attenzione anche al Nasdaq che pur essendo uno strumento meno impegnativo rispetto al DAX è molto meno grosso però sono strumenti cattivi tenete anche presente che Tesla di cui si è molto parlato in questi giorni per i suorelli da ricoperture tutte le scommesse soprattutto tutte le indiscrezioni che vi sono state dietro pare che Fed sia dovuta intervenire con dei finanziamenti overnight cioè proprio di denaro caldissimo a brevissimo per quasi 100 miliardi di dollari ed erano soldi che servivano alle banche per finanziare i clienti per farsi ricomprare Tesla su cui erano sciogli quindi Tesla incide molto sul Nasdaq tantissimo ha una capitalizzazione che è pari all'1,5% di tutto il peso del Nasdaq quindi se Tesla ti fa un 20% al giorno moltiplicato l'1,5% sono 28-30 punti Nasdaq che ti ballano e questi 28-30 punti su un indice molto molto tirato possono completamente alterare anche il significato delle nostre posizioni per cui direi di stare estremamente estremamente attenti perché c'è da 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 essere prudenti ecco tolgo la tabella della volatità ricon mettiamoci riconnettiamoci sullo schermo ecco DAX ancora un po' in difficoltà vogliamo guardare qualche cambio io direi di andare a guardare innanzitutto i cambi sullo Yen Giovanni posso interromperti un attimo devi 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 entra mi piacerebbe proprio dal Daniele che segui i mercati se magari nella tua tabellina sulla volatilità puoi compararlo eventualmente anche con le principali valute arrivo subito arrivo subito vi elimino questa vi prendo quella delle valute faccio vedere una cosa sulle valute interessante ve la metto qua condivido lo schermo Forex ecco spero che la vediate vediate questa tabella dove c'è scritto Forex in maniera estensiva la vediamo e questa è la tabella delle volatilità dove vedete che il cambio più volatile che pesa di più in questo momento è sterlina dollaro e ovviamente euro contro sterlina le altre valute sono relativamente basse come volatilità continuano a girare intorno ai 48 50 pip per euro dollaro vedete 59 per euro yen sterlina dollaro una figura e 12 pip da 5 minuti a 60 giorni queste tabelline sono molto interessanti perché vi aiutano sull'euro dollaro la volatilità ultimamente sta un po' risalendo però oggettivamente parlando era molto bassa mentre invece su sterlina dollaro tenete presente avete una volatilità del 9,3% annualizzato che è veramente tanto CHF lasciate stare perché normalmente non sono cambi che ballano molto se non sul dollaro dove c'è USDCAD invece che oggi si sta muovendo un po' di brutto adesso poi voglio andarlo anche a vedere sul grafico nel frattempo dollaro yen sta scendendo e questo è un segnale a mio parere botta sul DAX che il mercato oggi sta vendendo andiamo a vedere se ci sono domande su questa tabellina fatemele pure perché sono estremamente utili aggiungo anche che se volete ricevere a titolo puramente informativo una copia di queste tabelline nella vostra mail fatemelo sapere anzi facciamo una bella cosa a Daniele te le giro poi dopo e a tutti i partecipanti quando daremo la registrazione darò anche una copia di questo file così potete andare a darci un'occhiata Giovanni ti ringrazio perché fra l'altro io stavo lavorando su una tabellina di volatilità che compara mischiando proprio i cambi con gli indici infatti non a caso soprattutto negli ultimi tre mesi la volatilità del DAX dieci volte l'euro dollaro ecco penso un po' infatti l'euro dollaro vedo che senza dirci niente stavamo lavorando sono collegamenti chiamiamoli collegamenti mentali torniamo a vedere il grafico io stavo guardando Use the CAD comincia a muoversi un po' di più il mercato perché comunque Use the CAD ti ha fatto uno 33 praticamente poco prima del dato 1,32,78 sono 1,2,3 45 minuti di volatilità 33,20 32,78 sono circa 40 pip Use the CAD per fare 40 pip mediamente ci mette quasi un giorno vedete la forte compressione di Use the CAD come è andata a sfogarsi a sfogarsi da quest'altra parte nel frattempo DAX sta cercando di tenere un po' delle posizioni ma sono tutti andati un po' a lavorare sulla parte bassa del range di oggi do un livello vorrei condividere con voi un mio personale punto di vista per quanto riguarda i livelli tecnici io starei molto attento considerando anche la sua volatilità è dovuta al discorso di Tesla all'andamento di Nasdaq questa candela è poco bella da vedere questa e suggerisco di fare così di utilizzare l'escursione scusate di questa candela per andare a monitorare un'eventuale discesa di Nasdaq eventuale su questi livelli andiamo poi a stabilire su questi livelli che cosa sono questi livelli stringiamo allarghiamo il grafico perché qui troviamo una zona qui c'è vedete c'è proprio un box dove il Nasdaq ha lavorato ultimamente il 9 4,50 4,60 che ce n'è 1 2 3 4 5 qui cominciano ad esserci tanti massimi qui ci sono c'è una forte zona di minimo è questa quindi quanto riguarda il Nasdaq direi che questo livello 9,375 3,80 è tantissima roba è un livello pazzesco c'è una domanda interessante di un collega chiedo anche a Daniele di potermi dare una mano in questo senso perché c'è un collega Alberto che saluto che chiede se questi software sono disponibili per Mac probabilmente la domanda di Alberto a cui chiedo una conferma in tal senso è se questi software che stanno girando su questa metatrader possono essere implementati su una metatrader spero di aver capito bene Alberto dimmi pure se ho capito invece male possono andare a girare su una metatrader che vada poi a lavorare su un sistema operativo Macintosh spero di aver capito bene chiedo a Daniele in questo caso sì Giovanni avevo risposto manco farla posta in privato ad Alberto ok perfetto magari però potrebbe però per dirlo a tutti quindi il tuo software con tutti i software che hai creato si interfacciano a MT4 come sappiamo MT4 lavora perfettamente in ambiente Windows ok che che se ne dica una versione per farla girare su Mac perfetta non esiste quindi l'unico modo per farla girare su Mac che sarebbe mettere un emulatore all'interno del Mac così siamo sicuri che lavora in maniera perfetta di emulatori ce ne sono tanti se volete anche mandarci una mail mandare una mail vi posso ve ne posso segnalare diversi però meglio secondo me non complicarsi la vita farla girare direttamente su Windows dove poi chiaramente girano i software di domani ora sono le 14.49 io direi di stare molto attenti per quanto riguarda Nasdaq a 9.401 in realtà lui ha fatto 395 come minimo in questa giornata ma il 401 è un livello su cui ho piazzato personalmente su un altro schermo degli allarmi il tempo è passato veloce io ho cercato di fare del mio meglio ma lo vorrei concludere con delle iniziative positive nei vostri confronti oltre al fatto che io e Daniele Ponsinibbi che è un maestro nel settore del forex e che era già presente attivamente anche con dei libri delle pubblicazioni quando io ho cominciato a fare trading e si parla del 2006 ahimè come passa il tempo al di là del fatto che io e Daniele ci si conosca da tempo molto bene con grande stima e oltre al fatto che è per la grande stima che ho deciso di aprire un conto presso i broker da lui diretto con Daniele però abbiamo cercato di fare qualche cosa che potesse veicolare l'utilizzo dei miei software in maniera più user friendly possibile per gli utilizzatori perché sono software che hanno un valore aggiunto pazzesco non sono gratuiti e hanno un costo rappresentato dal valore che secondo me possono dare in base alle informazioni ai loro segnali operativi sui vostri schermi molto grande pensate per esempio al fatto che avete una dashboard che vi sta dicendo il mercato sta scendendo segui il trend e vi dice da dove scende dove dovreste mettere il trailing stop e che e quali è la modalità con cui questo trend si sta muovendo DAX si sta muovendo con la debolezza 0,52 quasi del doppio maggiore rispetto alla sua volatilità questi sono segnali informazioni che possono apparire inizialmente complesse ma sono di grandissima importanza oro sta andando a 5,68 quindi si è fatto dall'uscita del dato tre figure e sta salendo con la forza 0,62 la forza e la debolezza della dashboard sono più 1 meno 1% con una volatilità che è la metà in questo momento quindi l'oro è long da 1,565 stop 1,566 44 è già andato in trailing non è una modalità di euforia sono acquisti non sono né forti acquisti né euforia sono vendite non sono panic selling se non per crude oil per petrolio petrolio oggi sta perdendo 2,26% anche questo è un indicatore sull'andamento dell'economia da non perdere e qui c'è scritto forti vendite cosa abbiamo pensato di fare con Daniele faccio vedere la slide che abbiamo elaborato insieme se sei d'accordo Daniele sì perfetto Giovanni perché ho deciso di mettere a disposizione questi indicatori grazie chiaramente al contributo e all'interfaccia positivo che abbiamo io Giovanni Lapidari e Ava Trade con delle possibilità di sconto vi faccio vedere come funzionano questi sconti ecco abbiamo creato un powerpoint ve lo giro anche questo per email questi sconti sono applicabili se aprite un conto con Ava Trade che è chiaramente un conto real lo potete aprire con quattro tipi di modalità perché il portafoglio non è uguale per nessuno di noi o con un deposito minimo di 1000 euro da 1000 a 2999 euro o con un deposito minimo di 3000 euro o di 5000 euro ecco che ci siamo dimenticati la parola euro oppure oltre i miei indicatori sono il Lapidari Sentiment che avete visto sulla piattaforma la Lapidari Dashboard Lite non l'avete vista ve la faccio vedere adesso in 5 secondi e poi la Dashboard Full invece che quel pannello su cui prima avevamo preso qualunque tipo di informazione il Sentiment non costa 457 euro costa il 15% in più 529 annuale per chi apre il conto su AVA ho applicato un prezzo di 457 euro a secondo corregimi se sbaglio Daniele ed entra a dettagliare meglio la nostra proposta la nostra offerta in qualunque momento se a secondo delle cifre con cui aprite il conto potete avere uno sconto che io vi andrò ad applicare l'indicatore di comprate direttamente da me da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro cioè praticamente con 10.000 euro il Sentiment è in pratica gratuito questa è una licenza annuale ed è un prezzo annuale la dashboard light poi andremo a vedere costa un po' di più costa a voi 757 euro perché in realtà il suo costo non è questo è esattamente di 894 euro a seconda dei depositi lo sconto in questo caso il software costa un po' di più lo sconto quindi è un po' maggiore 150 250 350 350 450 è tanta roba vi assicuro che è tanta roba tanta roba come condizione economica poi c'è la dashboard full che è il pannello che avete visto prima la dashboard full costa 1264 euro io la metto per chi aprirà il conto su Avatrade a 997 euro a cui andremo a togliere a seconda delle entità dei depositi 200 300 400 500 euro avete la possibilità di entrare nel mondo di lapidari e di questa roba fotonica su cui questo è solo il primo dei webinar che andremo a costruire a livello proprio formativo pazzesco ad un prezzo irripetibile a questo punto cederei per i commenti finali la parola a Daniele per completare un po' il discorso ok Giovanni ci avevamo l'altra slide proprio per spiegare bene ok infatti quindi come diciamo a chiusura delle innanzitutto volevo dire che ci tenevamo a venire incontro un attimino con degli sconti su questi software proprio perché chiaramente al di là di utilizzarli direttamente ci teniamo appunto che anche i nostri clienti possano fruirne chiaramente per poter tracciare la provenienza quindi del contatto chiediamo di utilizzare dei link dedicati se intendete aprire il conto con Avatrade e avere queste agevolazioni mettendo dentro appunto un codice partner come indicato in queste slide che appunto poi Giovanni vi manderà oppure cliccando proprio sul link dedicato quindi semplicemente proprio per in questo modo siamo sicuri di potervi che Giovanni vi possa dare lo sconto proprio perché chiaramente grazie al contributo di Avatrade chiaramente se ci sono domande sul broker nella slide successiva ci sono i miei contatti direttamente qua in Italia di un'altra persona Simone Spinelli che segue diciamo questa iniziativa che abbiamo creato con Giovanni e con i suoi software come diceva Giovanni la nostra idea è di fare un percorso assieme quindi siccome ci conosciamo da tanto e vorremmo chiaramente condividerlo con più persone possibili sia in contatti miei di Avatrade e di tutta questa industria finanziaria sia con i contatti di Giovanni non ci fermiamo un webinar ne faremo diversi webinar legati chiaramente ad eventi macroeconomici dai no fan per ola ai tassi di interesse passando ovviamente per i software di Giovanni ma faremo anche delle giornate dal vivo quindi mi auguro di potervi conoscere direttamente esatto stiamo pensando stiamo proprio pensando anche a questo ok tra l'altro vedo poi che mi arrivano delle domande da tipo da Felice ok che l'ha comunicato a tutti che ha aperto già un conto con noi ti chiedo gentilmente Felice mandami cortesemente una mail la vedi proprio in sovraimpressione di www.panzinibetavatrade.com e vediamo di trovare una soluzione la migliore possibile perché chiaramente l'iniziativa è stata resa pubblica adesso però cerchiamo chiaramente di trovare la miglior soluzione per avere i software di Giovanni ci mancherebbe ok sotto questo aspetto vi abbiamo detto le cose importanti il signor il signor Giuseppe che chiede si possono avere maggiori informazioni sul broker su Avatrade allora chiaramente è un giudizio di parte ci lavoro dentro da dieci anni quella cosa che posso dire al signor Giuseppe e a tutti che Avatrade è operativa dal 2006 regolata dalla banca centrale di Irlanda quindi una regolamentazione solida abbiamo chiaramente anche un numerino consob per poter svolgere l'attività in Italia dietro Avatrade ci sono diciamo c'è una proprietà internazionale quindi abbiamo regolamentazioni in tutto il mondo anche al di fuori dell'ESMA siamo tra i primari broker tra i primi dieci broker al mondo in termini di volumi quindi se volete vi posso chiedetemi una presentazione al di là di andare dal sito io sono per dire che Avatrade non è solo un broker online quindi siamo in Italia da oltre diciamo da aperto nel 2006 in Italia dal 2010 quindi presenti nei maggiori eventi ma soprattutto mi sento di dire disponibili siamo disponibili per parlare siamo siamo un buon broker come ce ne sono altri sicuramente puntiamo tantissimo sul contatto e far capire che si può collaborare al di là di intermediare nel miglior modo possibile quello che mi sento di poter dire è che se oggi voi siete qua ad ascoltare questo webinar è perché conoscete Giovanni Lapidari chi di persona e chi purtroppo ancora non ho il piacere di conoscerlo di persona ma magari sono noto in giro perché c'è una bella domanda questa dobbiamo rispondere sono noto in giro perché ho il mio canale YouTube vado su Facebook vado ai convegni eccetera eccetera se avete un attimino idea della persona che sono penso che avrete capito che se metto la mia faccia e il mio modesto operato per carità all'interno di una partecipazione di collaborazione come questa è perché sono il primo che fa tutta una certa serie di valutazioni estremamente approfondite e quindi non che la mia sia una parola di garanzia semplicemente se i miei soldi sono con questo broker la mia attività prevede una partnership così importante è perché sono sicuro di essere in un buon posto ci sono come ha detto in maniera molto corretta Daniele tantissimi tantissime buone aziende ci sono aziende delle quali la storia recente di questi ultimi anni ci dice che bisogna guardare le cose con la lente di ingrandimento Daniele è però un professionista serio e anche estremamente disponibile avete i suoi riferimenti nelle mail che abbiamo messo prima sarete in grado di poter vedere tutto c'è una domanda alla quale vorrei dare una risposta proprio direttamente a partire dal grafico e quindi vorrei tornare a settarmi un attimo sulla sulla sull'Ava perché un collega chiede se il sentiment e la dashboard sono applicabili anche a singoli titoli faccio vedere una cosa vada prendiamo chiaramente una delle cose buone che ci sono su questa piattaforma mostra tutto perché intanto bisogna rifresciare alla ricerca di nuove introduzioni prendiamo un titolo che io non seguo Amazon come vedete abbiamo messo sul grafico come vedete il sentiment su Amazon gira chiaramente essendo titoli azionari il mio suggerimento è di farli girare all'interno di un grafico che abbia un buono storico e soprattutto abbia un time frame adatto all'operatività in singoli titoli io l'altro giorno ci ho fatto una indagine faccio vedere su Tesla la ritrovo perché me l'ero segnata da qualche parte visto che si è parlato molto di Tesla la trovo se avrete un attimo di pazienza perché me l'ero me l'ero andata a prendere ecco quando cerchi le cose e non le trovi intesa telecom total figurette faccio delle figurette bestiali eppure ce l'avevo da qualche parte Tesla ok la troverò questa è General Electric per esempio nella dashboard potete fare una cosa molto carina andare a caricare un titolo quindi io prendo per esempio adesso General Electric ce l'ho qui da una parte il suo simbolo è dieresi GE e lo posso mettere dentro la dashboard faccio vedere adesso tra poco il preset vedete che ho GE chiaramente in questo momento ancora il mercato non è aperto per cui vedete closed appena il mercato sarà aperto questo lo troveremo caricato dentro andiamo a mettere un titolo che magari in questo momento invece sta tradando e quindi prendiamo un titolo italiano l'avevo trovato prima voglio andarci a mettere Intesa per esempio ecco Intesa San Paolo vado a prendere Faccina Faccina clicco si fa così si clicca sul simbolo della faccina come fosse un trading system e ci vado a mettere Intesa Underscore Intesa Maiuscolo San Salva me lo salvo in un preset si possono creare più preset che uno vuole e lui mi dice sì ok te lo prendo fammi l'upload strumenti centro storia vado a cercare adesso Intesa ce ne sono talmente tanti che eccolo qua no mi dovevo preparare prima per la domanda però non è un problema eccolo qua eccolo qua si va a prendere c'è anche Unicredito Intesa si fa un refresh dei dati si clicca due volte qui sopra si ricarica il piano ed eccolo qua Intesa dove avete tutti i segnali intraday per il titolo ma anche su base daily settimanale e mensile indicazioni dei livelli dove andare a rialzo dove andare a ribasso secondo del trend quali sono le maggiori resistenze e maggiori supporti qual è il prezzo max up da non inseguire se vai a rialzo da non inseguire se vai a ribasso i vari target e vari tasti questo è un tutto un discorso che adesso non voglio annoiarvi fa parte delle istruzioni della dashboard ci sono manuali per altro video su youtube e tutto il resto ma alla risposta alla domanda del collega tutti i titoli azionari italiani europei americani e comunque italiani ed esteri presenti sulla piattaforma di avatrade sono caricabili tranquillamente sulla dashboard e dove vedete che lavorano tranquillamente gli indicatori di sentiment eccetera eccetera e farci trading né più né meno come fossero dei CFD che replicano indici o materie prime piuttosto che delle valute sono le 3.07 questo è il primo webinar che abbiamo fatto se non ci sono altre domande vi lascio due o tre minuti di tempo per le domande e per eventuali richieste di approfondimento io sono a vostra disposizione alle 3.10 chiudiamo il webinar ne salviamo la registrazione e poi lo mettiamo sul canale youtube mio di Giovanni Lapidari iscrivetevi a questo canale se non vi siete già fatti e poi per email tanto abbiamo tutti o tutti i vostri indirizzi email con cui vi siete registrati mi auguro entro stasera di potervi girare già direttamente la registrazione del webinar e la documentazione che avevamo vi avevamo indicato disponibile qualcuno mi chiede di Amazon Amazon in questo momento sull'H4 andiamola a vedere sul daily 1 Amazon in questo momento c'è un gappone ci sono proprio gap da compressione di volatilità mano primaria su Amazon e long da 1785 circa dal giorno 24 dicembre da qua e per ora non si sta strappando i capelli per comprarlo questo è un gap fatto da piccoli non da grossi guardate la differenza di impostazioni queste sono tutte ricoperture da gap per il momento Amazon è ancora molto molto forte e molto robusta se non ci sono altre domande io vi saluterei qua vi ringrazio a tutti per l'attenzione lascio la parola anche a Daniele se vuole salutare i nostri i nostri sì grazie Giovanni grazie per per aver partecipato e per aver presentato assieme Avatrade e soprattutto vi dico qualsiasi domanda scriveteci scrivetemi e possiamo appunto iniziare a collaborare altrettanto per me come sapete sono a vostra disposizione riesco a guardare Outlook anche alle 10 di sera vi auguro veramente a tutti buon trading una buona settimana un buon weekend un buon tutto e a vostra disposizione buona giornata a tutti voi un saluto un saluto un saluto Grazie a tutti.